Oltre confine, una nuova puntata prima di presentarvi i nostri gentili amici ed ospiti, una bellissima notizia. Abbiamo avuto un grande amico, l'abbiamo ancora un grande amico, che è Manuel Biava, Moscato di Scanzo, articolo di Leco di Bergamo di alcuni giorni fa, per cui cito anche la fonte, la cantina Biava ha potuto portare circa 2000 bottiglie del suo vino in quel di New York. Il Moscato di Scanzo in questo momento è presente anche nella città della Grande Mela. Ne sono veramente contento perché so che Manuel ci tiene, ci tiene tantissimo come vicepresidente del Consorzio a portare avanti il Moscato di Scanzo, ci tiene tantissimo alla sua azienda, tant'è che lo ricordo l'anno scorso la coltivazione dell'uva è andata talmente male perché il tempo è andato talmente male che ha rinunciato alla produzione, perciò l'annata 2014 non esiste perché ha detto piuttosto che mettere in commercio della porcheria rinuncio ad un facile o effimero guadagno. Manuel grazie, grazie per la tua onestà intellettuale e grazie anche per l'amicizia che riservi alla mia persona e a tutto il mondo di Antenna 2. Allora, torniamo a Solto Collina. Qualcuno potrà anche dire ma ne avete già parlato due o tre volte, è vero, ne abbiamo parlato per la Crucifixus, ne abbiamo parlato per altre occasioni, per il turistico e allora questa sera se permettete abbiamo il presidente e la vicepresidente dell'Associazione Turistica della Collina che è intesa come Solto Collina con la sua frazione Esmate, con la sua frazione di Zorzino, con la frazione, con Fonteno, con la sua frazione di Xino, con Riva di Solto e con Gargarino, cioè tutto il corollario della Collina. Ciao Pierantonio, grazie di essere qui da me, ma soprattutto da noi e grazie alla signora Avvocato Cattia. Grazie a tutti e due. Comincio con te. Tu sei stato già mio ospite nel lontano 2006 nella mia precedente vita televisiva dall'altra parte e già allora avevamo parlato, ma non in qualità di prologo, ma in qualità di assessore. Sì. Ricopri ancora, parto da lì, ricopri ancora qualche carica politica o sei fuori? No, ricopro ancora la carica politica. Io adesso sono in minoranza, ma con l'amministrazione Esti ho avuto l'opportunità di collaborare con questo gruppo e praticamente sono il, diciamo, designato il delegato da loro con la carica di consigliere delegato alla biblioteca e al centro di promozione turistico-culturale. Quello che, diciamo, in poche parole, seguivo già quando ero assessore. Ecco, partiamo da zero. Partiamo veramente da zero. Io arrivo da Lovere, arrivo supero pianico ed arrivo, diciamo, alla rotonda, entro in quel che è il comprensorio di Soltocollina, supero, supero la valle del freddo. Poi ci arriviamo un po' dimenticata, salgo e sono assolto. Perché devo venire assolto? Perché devo venire a Riva di Soltocollina? Perché devo venire a Fonteno? Allora, il perché è sicuramente, magari è un discorso un po' di parte, ma è una frase che noi utilizziamo sempre quando andiamo a promuovere la nostra meravigliosa collina. Da noi c'è l'aria buona, da noi c'è divertimento, tanta voglia di fare, tanta voglia di farsi conoscere e ci piace appunto lavorare, collaborare tutti e tre insieme, quindi Soltocollina, Riva e Fonteno. È da lì che nel 2010 noi abbiamo fondato appunto la Proloco La Collina, già avevamo fondato negli anni precedenti l'associazione La Collina, che era colei che gestiva la camminata inogastronomica. Poi, per varie motivazioni, il gruppo ha deciso di fondare la Proloco La Collina perché volevamo essere al di sopra di tutto, slegati dai vari colori politici e fare comunque un qualcosa di privatistico, portando sempre comunque avanti il buon nome della collina. Non è stato semplicissimo, bisognava crederci, bisogna crederci tuttora, però siamo riusciti. All'epoca c'era come presidente la Romeli Francesca, nostra carissima amica che saluto, che ci ha sempre comunque spalleggiato anche nel continuare. Io all'epoca ero vicepresidente, non troppo convinto di questa scelta, ma assolutamente titubante, ma non perché non credevo nel turismo della collina, ma era un po' un periodo particolare magari della mia vita, invece lei mi ha spronato e mi ha detto qua dobbiamo comunque andare avanti e qualcuno deve portare avanti tutto il lavoro fatto da te negli anni. Giustamente siamo riusciti pian pianino, pian pianino e siamo comunque arrivati ad un buon livello. Nel 2014 abbiamo rifatto le cariche, ho preso il suo posto perché poi lei si è trasferita a Costa Volpino e si è sposata, ha avuto una bimba, quindi altri problemi familiari e io ho preso in mano la situazione. Continuiamo con lo stesso gruppo, Katia è subentrata ed è il vicepresidente di questo gruppo. Abbiamo due rappresentanti del paese di Fonteno, tre rappresentanti del comune di Riva e quattro di Soltocollina. Diciamo che noi non vogliamo portare via il posto a nessuno, abbiamo sempre comunque voluto fare un lavoro in sinergia, ma mai calpestando i piedi a nessuno, non rubando sicuramente la scena a nessuno, ma facendo da filtro a tutte le manifestazioni e essere di supporto alle manifestazioni dei tre paesi. Però la cosa che noi sottolineiamo è che da statuto, sappiamo benissimo che le Proloco non sono i poncibol di turno che vanno a tamponare non le malefatte o le problematiche, ma bensì noi se riusciamo a sopperire a quello che le altre associazioni magari per problemi vari di varia natura, noi riusciamo anche a dare una mano. Ovviamente non si può utilizzare la Proloco per il filtro, che vabbè tanto lo fa la Proloco anche a livelli più problematici. Questo mi piace sottolinearlo in quanto non è la natura delle Proloco fare solo da supporto agli altri enti, anche se noi comunque vogliamo essere sempre presenti, ci piace essere presenti e se possiamo dare una mano sempre. Katia, arrivo da lei, ma veramente subito, subito, subito. Soltocollina, il comprensorio ha tantissime possibilità. So anche, per mia esperienza diretta, che è abbastanza frequentato anche da cittadini stranieri. Perché a me capita di essere lì, e lo dico, per ragioni mie. Io sono lì tantissime domeniche dell'anno, su 52 domeniche dell'anno posso dire che 40 le vivo in Soltocollina, e mi capita guardando le targhe automobilistiche, olandesi, belgi, qualche francese, inglesi, tedeschi, austriaci. A Russi come stiamo? Ma Russi direi che stiamo abbastanza bene. Certo è che sicuramente il paese di Solto offre, come diceva Pierantonio, Solto, Riva e Fonteno, stiamo parlando di Solto in questo momento, offre tantissimo panorami, perché se solo si sale a Esmate e poi a San Defendente c'è un panorama che a mio dire è assolutamente mozzafiato, soprattutto quando ci sono delle belle giornate di sole, come in questo periodo tra l'altro, e non sono difficili da raggiungere neanche a piedi, quindi si possono fare delle belle camminate, c'è l'aria buona, c'è della bella gente, sicuramente, e perché no c'è anche del buon mangiare, che non guasta mai, e poi da Solto ci si può spostare a Fonteno, salendo, che anche Fonteno a panorama è qualcosa di veramente unico, anche la gente lì non posso dire che non siano persone molto aperte, molto disponibili, e anche lì camminate a non finire, si possono fare veramente tantissimi itinerari, mentre se si scende a Riva ovviamente c'è il lago, che anche solo la passeggiata sul lungo lago di Riva merita. Ecco, siamo arrivati al San Defendente che ovviamente ha un visuale che abbraccia, diciamo, dalla media valca Monica, ovviamente a Monte Isola, perché poi se io dico Monte Isola, il sindaco di Monte Isola dice che non bisogna storpiare il nome del suo paese e ne ha tutte le ragioni, San Defendente ne approfitto, voglio salutare Paola e Renata che hanno un ristorantino lì verso il Green Village, non è una pubblicità, è solo un saluto, perché sono due cari persone con tutti i loro figlioli e figlioli e tutti insieme, ed è veramente un posto da vedere. Torno ancora al signor Spergati, al Presidente. Allora, voglio una piccola precisazione prima poi di parlare di turismo. Non è una scoperta dell'ultimo giorno neanche dell'ultimo anno, oltretutto tu lo fai di mestiere in quel di Gandino. A Soltocollina è nata anche, diciamo, io la chiamo una mini casa di riposo, giusto? Un centro di urno integrato. Ci sono anche persone che però risiedono lì. Ecco, vogliamo spiegare un attimino come funziona? Allora, centro di urno integrato, diciamo che, come dicevi tu, per i meno addentro ai lavori, è una mini casa di riposo con tutti i servizi sociosanitari per chi appunto ha delle problematiche o anche per chi volesse solamente passare qualche giorno per una vacanza particolare e quindi parliamo di anziani o persone con piccoli deficit oppure proprio persone che comunque vogliono cambiare per qualche mese il loro stile di vita. Quindi in questi centri, diciamo, si trova di tutto, dall'assistenza sociosanitaria, piuttosto che alla fisioterapia, piuttosto che colazione, pranzo e cena e poi sicuramente dal servizio animazione, una voglia di fare gruppo con queste persone che in questi periodi o per più periodi all'anno soggiornano in queste strutture. Io, come dicevi tu, lavoro in un RSA di Gandino, per noi è un attimino un pelo più grande la realtà, però il nocciolo è quello. Servizi sociosanitari che oggigiorno hanno comunque una grandissima importanza e lavorare con le persone anziane sappiamo benissimo che è come lavorare in una biblioteca, ecco perché forse faccio il volontario anche nel centro di promozione turisculturale, birbioteca di Soltocollina, in quanto anche della persona che parla meno ma solo con uno sguardo ti dà comunque degli input che ti fanno capire che la vita ha un senso. C'è un signore di Clusone, si chiama Arturo di nome, è alcuni anni che è lì, diciamo, residente, ho avuto modo per mio piacere personale di andare a trovarlo alcune volte, devo dire che anche loro sono allocati in un posto con un visuale che è magnifica, è pur sempre una casa di riposo, però non è imbucata, hanno quella vetrata davanti, hanno quel giardino diciamo primaverile, estivo o anche autunnale, perché se va avanti il tempo così penso che stiano più fuori che dentro, ecco sicuramente i caloriferi non saranno tirati su a paletta perché gli anemia hanno la necessità fisica, domini proprio tutto, poi chissà perché il lago piccolino che sia dà sempre un minimo di tranquillità, lo dicono che sia distensivo, pare che un certo Benito si fosse allocato al suo Garniano perché diceva che si distendeva, poi ha fatto distendere gli altri e lasciamo perdere un po' perché anche lei fa parte della storia. Torniamo un attimino ancora, prima di concludere la prima parte, alla casa di riposo, è un lascito quello lì? Sì, era un lascito che in prima battuta era stato lasciato alla parrocchia e poi con l'amministrazione Minelli per poi arrivare con l'amministrazione Boieri, anch'io ne facevo parte, sia arrivati alla conclusione dell'opera e l'accreditamento di questa struttura. Diciamo che anche lì nelle cose comunque bisogna crederci, il pensiero di avere una struttura a soltocollina era un'ipotesi però sappiamo benissimo che ha dei costi per il funzionamento però sicuramente penso che sia una scelta azzeccata, poi ecco sul fatto della gestione ognuno poi decide il meglio per farla funzionare, per portare avanti appunto questa meravigliosa casa, diciamo, chiamiamola casa perché comunque è una casa e è un ottimo servizio perché comunque ci sono tante però per chi la può utilizzare in collina sicuramente è un doppio servizio in quanto è molto accessibile e come dicevi tu comunque è un lascito del 400-500 sistemata ad hoc e bella, funzionale non è il classico ospedale diciamo perché ormai hanno tutte queste sembianze perché in quanto regione Lombardia ha un diktat di come devono essere, questa sicuramente se non ci fosse il totem fuori che ti dice centro di urno ti sembra una casa storica e niente comunque sicuramente per il solto colline, la collina, il comprensorio sicuramente penso che questo sia uno dei, diciamo una ricchezza in più ecco, questo. Sì, ne prendo atto, ne prendo atto perché ripeto io ho avuto modo di visitarla alcune volte proprio perché è un po' più piccola rispetto ai canoni classici, dà proprio più dell'abitazione diciamo quasi più di una cosa conviviale, dopo non so, a me è capitato di parlare un paio di persone di servizio, le ho trovate talmente e ampiamente disponibili anche diciamo non alla facile chiacchiera ma che lo dice chi che è e che, il Digenberg a Mars, chi che è e che sicuramente diciamo che forse rispetto ad altre godono di un 5% in più. Sicuramente in quanto la grandezza secondo me degli ambienti in miniatura rispetto alla casa grande ti fa comunque essere più intimi perché dove lavoro io che per me comunque è una buonissima struttura, grande, all'avanguardia diciamo, avendo comunque reparti con 40 ospiti sicuramente se faccio il paragone dei piani dove hanno 40 ospiti e dei piani dove ne hanno 20 sicuramente l'intimità è differente. Poi sicuramente la gestione, la professionalità del personale, tutto il resto dà comunque qualcosa in più. La struttura piccola come quella che c'è a solto collina sicuramente dà proprio più il benessere di casa perché comunque è proprio piccola. Un piccolo bijou, una piccola ciliegina sulla torta e magari qualcuno non ci credeva, però c'è. C'è. È allocata all'inizio della frazione di Esmate, dietro c'è una fontana storica che dice che un bel giorno arrivò l'acquedotto per cui l'acqua è arrivata anche lì, non hanno dovuto fare il bypass per cui non sono rimasti senza acqua come quelli di Messina. Prima pausa pubblicitaria, grazie. Seconda parte di questo Oltre Confine, ho in mano il logo, anzi una borsetta, con il logo della Proloco Collina e con un simpatico ometto, penso che non sia una femminuccia perché c'è un nasone che mi sembra un po' San Nazario, però fino a qui ci siamo. Chi ha ideato, cioè chi ha ideato? Com'è nata l'idea di fare sto ometto? Allora, ci serviva un qualcosa che ci facesse riconoscere. Un artista di fama internazionale, per non dire mondiale, che noi abbiamo come ospite nella nostra bellissima collina, così no diciamo chi è, ma uno magari ci potrebbe anche arrivare, ci ha fatto uno schizzo e ce l'ha regalato dicendo questo sarà il vostro portafortuna. Ovviamente per tutte queste cose burocratiche non si può dire chi è, come, che ha fatto questo bellissimo o brava, ma per noi è il nostro grandissimo portafortuna. Poi c'è chi lo chiama Ometto, come dici tu, chi lo chiama l'arlecchino della collina. Allora cosa abbiamo fatto? Visto che dovevamo dare un nome, abbiamo fatto un concorso con la scuola primaria. Dovevamo fare la copertina del nostro libretto di promozione, abbiamo fatto una sorta di concorso e loro hanno preparato la copertina di questa brochure e dovevano dare il nome a questo Ometto. Ed è così che è nato il nome di Solforino. Solto, Riva e Fonteno, Ino perché piccolino, e Solforino è la nostra mascotte. Katia, lei che deve fare la vicepresidente, è angustiata da questo personaggio o riesce a portare avanti le sue cose senza dover dipendere in toto dal presidente? No, diciamo che fortunatamente abbiamo questo personaggio come presidente, perché è assolutamente un tir quando ha un'idea, martella, finché non è tutto a posto, non è tutto ideato, per cui siamo molto fortunati ad averlo come presidente. Poi c'è, devo dire, un bel gruppo perché comunque anche del Consiglio, della Proloquo, siamo un bel gruppo, ognuno con le sue idee chiaramente, ma si riesce sempre poi ad arrivare ad un filo conduttore comune e a portare avanti tutte le idee che ci vengono. Non è sempre facile, ma ce la facciamo. Ci si prova, sì. Come dice lui, è importante provarci e crederci. Rilancio la palla al presidente. Allora, io ho avuto, ce l'ho ancora la fortuna di essere amico con Don Antonio, non ho ancora conosciuto il nuovo parroco, non ho avuto il tempo di andare, diciamo, a conoscerlo, pur essendo da alcune settimane lui insediato e Dio ospite in quel di solto. Una di queste domeniche penso di andare alla Santa Messa e di andare, non dico a presentarmi, ma quantomeno a dirgli buongiorno, me, Sol Giacomo Ferrari, che ha il De Antenna 2, ma cambia negoti stessi. Come vi trovate con il parroco nuovo? Perché sicuramente la Proloquo avrà delle collaborazioni. Certo. Allora, non abbiamo ancora collaborato, fattivamente, ma l'abbiamo già conosciuto, ci siamo già incontrati. una buonissima impressione, una persona determinata, con le idee molto, molto chiare, per cui sicuramente anche con lui faremo sicuramente un bellissimo percorso. Rivangando un attimino il passato, con Don Antonio, per quanto mi riguarda, io avevo 20 anni, tornavo dal periodo delle stagioni perché la mia formazione scolastica è dalla scuola alberghiera per poi cambiare totalmente, è stata buonissima e con lui si è cominciato a fare tanti primi passi per poi spostarsi in comune e farne altri, ma con sempre il sostegno di una persona che nelle cose ci credeva e ci diceva sempre, ragazzi, avanti, perché se volete farvi spazio, bisogna un pochino sgomitare. Ovviamente per noi non è un lavoro, ma è una forma di volontariato che comunque, avendo comunque il tempo di fare queste cose, vogliamo, possiamo essere di supporto anche ad altri che magari hanno le idee più chiare, hanno magari qualche soldo in più di noi e si riesce comunque a formalizzare dei piccoli o grandi progetti che la collina può offrire comunque a chi ci viene in visita. Aldo Savoldello, Massimo Cacciari, la signora Frugoni, amici di Don Antonio, persone, Aldo Savoldello, per chi non sapesse, è Silvan, l'illusionista, persone che sono arrivate e che hanno dato, diciamo, un apporto anche consistente a quello che è la collina, con dei meeting, con delle rappresentazioni e Silvan, ricordo, anche con alcuni spettacoli che generalmente, che che ne dicano tutti, non si vedono tutti i giorni qui fuori dalla nostra porta. Sicuramente, godere di amicizie o per le amicizie anche altrui sicuramente ti spiara un attimino la strada e comunque hai un bel richiamo anche per la collina. Ricordiamo anche per noi, visto che comunque un po' di amicizia di più ce l'abbiamo diretta con Walter Spelgatti, che è ideatore di Golgotha, la collina della vita, e che con tutti questi personaggi ha comunque collaborato, collabora tuttora con noi per quanto riguarda me in biblioteca, perché oggi è il presidente della commissione biblioteca che poi spiegheremo anche tutti i progetti, ma per appunto Golgotha, un altro tir è Walter Spelgatti, che comunque è ideatore di tutte queste cose e collabora magari anche più fattivamente con tutti i nomi che tu prima hai citato. Allora, un altro grande amico, un amico che è venuto alcune volte a trovarci, un amico mio personale, Walter è quel signore che qualcuno mi ha detto ma il Simea che è il Mephisto che gli assesso i tex? No, non è Mephisto, è un ragazzo che ha la sua barba, i suoi capelli lunghi e tutti insieme e ha delle buonissime idee da coreografo, da direttore di scena e da regista. Andiamo avanti, biblioteca, cosa si vuole fare? Cominciamo da lì, dai. Biblioteca, oggi per solto collina, la commissione biblioteca, il presidente della commissione biblioteca è Walter Spelgatti con un gruppo tutto nuovo rispetto al mio di quando c'era Diego Capoferri come presidente. L'idea comunque è comune di portare avanti comunque tante iniziative con Walter Spelgatti che è il presidente, la collaborazione c'è, per cui tutti insieme c'è il Made in solto collina e adesso, domani, diciamo, ci sarà appunto alle ore 10, ci sarà l'apertura del mercatino nella via cominciato nel 2001 con 38 espositori, una cosa molto molto semplice e per arrivare a oggi, 2015, quindicesima edizione, con più di 120 espositori e sicuramente con tanto, tanto da visitare sarà una giornata scintillante e vi aspettiamo sotto collina in quanto i colori oro e rosso saranno di scena. Ecco, allora, noi siamo in onda in questo momento, domani mattina alle 10 si apre il mercatino nella via che è un mercatino prettamente pre-natalizio anche se allocato in questa data che è il 22 di novembre, però c'è anche una ragione, diciamo, pratica. Chi arriva a fare l'espositore ha delle date ben precise, per cui se tutti pretendono che il singolo espositore arrivi il 23 di dicembre, ovviamente quello va in un posto, non può andare in un altro. Diluendo la cosa nel tempo si dà modo a chi si porta avanti, in questo caso sotto collina si porta avanti, però ha un numero consistente di espositori che magari il 10 o il 12 di dicembre ne avrebbe solo la metà perché questi ti dicono a Patamendo o a Musa piuttosto che a Mantova o a Sondrio piuttosto che a Scrippè. Non si pensi mai di poter cambiare le date o anche solamente il nome perché per l'espositore che arriva da Torino venire a sotto collina e dire che c'è il mercatino nella via o per loro mercatini per loro è la stessa identica cosa, che ci sia io a gestirlo o che ci sia tu a gestirlo per loro è la stessa identica cosa, a loro serve ricordare il paese e la data. Noi abbiamo sempre fatto l'ultima o la penultima domenica di novembre e così è stato per tot anni e vediamo che magari qualche espositore che magari negli ultimi tempi aveva magari cambiato un attimino, vedo che sono ritornati in tanti, per noi questo ci fa veramente godere perché dici se vengono a sotto collina che bellissimo paese, una chicca però con nomi più importanti diciamo più pesanti del nostro vengono dici vabbè allora si vede che in qualche maniera l'organizzazione di base c'è e a noi fa molto molto piacere e voglio anche ringraziare tutto il gruppo della commissione biblioteca con Walter l'abbiamo già fatto tutte queste signore e anche alcuni volontari che tutte queste serate dalla fine di agosto stanno lavorando assiduamente per far sì che questa giornata sia veramente fantastica e scintillante mi sento proprio di fare un plauso a tutti loro perché il lavoro è tanto e viene fatto esclusivamente per il bene del paese di Soltocollina e ovviamente per l'entourage dei paesi di Riva e Fontena che comunque sono tutti lì e lavorando in Val Seriana tante volte si fa ancora fatica oggi a dire dov'è che sei tu Soltocollina a Rivo Fontena perché comunque la localizzazione geografica siamo comunque tutti lì e per noi è un punto di partenza il fatto che comunque in qualche maniera ci si riconosca il lavoro che comunque viene fatto sì stupidamente a volte abbiamo dei paesi allocati a 15-20 km da noi ma solo perché mutano la valle o solo perché c'è da fare una curva in più sembra che uno debba andare sulla Luna io per ragioni mie professionali dal 2010 sono presente in quel di Piangaiano di conseguenza ho acquisito decine di clienti su Soltocollina Riva di Solto eccetera eccetera in questo momento mi sto anche spostando abbastanza bene su Spinone Casazza e così e parlando con gli amici con i clienti quando dico ho inculcato tantissimi la cosa e ci sono persone e credetemelo ci sono persone di Clusone che adesso aspettano proprio gli avvenimenti su Soltocollina per arrivarsi gente che è arrivata quest'estate quando c'è stata diciamo i cortili aperti in estate l'anno scorso infaustamente con il tempo non si erano potuti tenere quest'anno è andata alla grande c'è gente che è venuta a vedere o ad ascoltare Golgota c'è gente che nei giorni scorsi si è portata a Xino che ricordo per i nostri benpensanti o per i nostri telespettatori è una frazione di Fonteno però è l'unica località in Italia e qui ci tengo veramente a dirlo è l'unica località in Italia che ha la X davanti a Ino Xino non esiste un altro luogo in Italia preceduto dalla X è un po' un'anomalia magari letteraria o toponomastica ma questo lo lascio agli addetti ai lavori c'è stata diciamo la sagra di San Carlo perché lì c'è la parrocchietta c'è la chiesa di San Carlo ovviamente se San Carlo come quest'anno casca a metà settimana la procrastinano alla domenica dopo perché giustamente il calendario va un po' come il Ganaoia va un po' come il 4 novembre difficilmente oggi i paesi piccolini riescono a fare la manifestazione del 4 novembre quel giorno lì se è di mercoledì e se è di giovedì certo se è di sabato o di domenica la tirano insieme certo ecco torniamo Solto anche qui una piccola precisazione e ci tengo uno arriva a Solto Collina e dice bellissimo paese peccato che non hanno il lago invece no perché per alcuni chilometri Solto Collina possiede anche una sponda lacustra e vogliamo specificare dove esattamente allora la fetta di lago diciamo così di Solto Collina si trova nella località Gre che sta tra riva di Solto e Castro e anche lì c'è la base nautica dove si possono fare tanti sport dal vela da windsurf da canoa mountain bike e tante altre attività in questa meravigliosa baia diciamo e questa è la nostra fetta di lago di Solto Collina ovviamente come dicevi tu Solto Collina non può essere detto Solto Collina uguale lago come riva di Solto però è giusto dirlo perché la fetta di territorio di località Gre è del comune di Solto Collina e anche lì c'è un'altra caratteristica perché il ceppo di Gre ecco vogliamo dire cos'è il ceppo il ceppo di Gre praticamente è l'estrazione della pietra che si che viene appunto lavorata nella zona di Gre che fa parte comunque è un ceppo leggermente tira leggermente 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 del verdino chiaro 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 tra un grigino e un verdino chiaro 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 però io ho visto ho visto quel sasso lì io lo chiamo sasso l'ho visto lavorato in certi ambienti è veramente legato è una chicca ma è una chicca di quelle ricercate e lo stanno ancora cavando si occupa della gente o sono pochi? allora io adesso sono disinformato su quanta gente lavori ancora alla cava di Gre però negli anni passati sicuramente ha dato comunque lavoro anche a gente del posto un'altra cosa che voglio ricordare di solto perché qualcuno me l'ha fatta venire in mente qui in quel di Clusone una volta lì dalle parti di San Rocco c'era anche un settificio se non sbaglio si dei buolo praticamente nel passato come dicevi tu c'era appunto la filanda dove si filava il baco da seta e lì veramente erano tante le persone di solto dei dintorni che lavoravano in questa filanda mia nonna che è dal 1911 mi ha sempre raccontato degli aneddoti che lei aveva a 11 anni era entrata a lavorare ed era sottopeso non come me oggi ovviamente e che era stata messa perché aveva le mani piccoline a filare il baco da seta nella stanza della seta io mi ricordo questa storia perché me l'aveva raccontata almeno mille volte per far sì che le sue mani erano comunque importanti per questo e ha lavorato per parecchi anni tu hai citato la famiglia in oggetto a me fa piacere salutare monsieur salutarlo perché spero di riuscire a portarlo qui in quanto l'avevo già anticipato con gli amici del modellismo di di Lovere Costa Volpino e Castro lui è uno di quei temerari che girano con le locomotive in miniatura e le ha tutte se riesco a portarlo qui se riesco a fare una serata parlando di trenini sicuramente anche qui ci sarà ancora quella famosa ciliegina sulla torta Giovanni Boalò ha aperto la sua casa alla gente con 900 in piazza facendo vedere questa sua meravigliosa collezione sarebbe proprio una bella cosa da far vedere speriamo che il geometro Boalò accetti l'invito e venga vi apra anche a voi le porte per far vedere allora diciamo che io una volta ce l'ho già fatta nella mia precedente vita spero in questa di vita di rifare la cosa anche perché lui nel frattempo ha implementato con la nuova tecnologia con i led al posto delle lampadine eccetera ha potuto implementare devo dire una cosa quando abbiamo visitato l'esposizione ero in compagnia del vice direttore qui di Antenna 2 Angelo Savoldelli ha chiuso la casa e per tre ore si è dedicato solo ma esclusivamente a mostrarci tutto a noi e se non si rimangia la promessa mi ha detto Ferrari prima o poi arrivo ad Antenna 2 seconda pausa pubblicitaria terza parte di questo oltre confine in questo momento mi sono spostato in Gran Bretagna sull'isola inglese sono allocato in un villaggio che si chiama Coniston cosa c'entri Coniston con solto collina io non lo so però lui me lo dice Coniston è il nostro paese gemello si trova nel Lake District in Gran Bretagna come dicevi tu è un posto fantastico ci siamo gemellati a marzo nel 2009 ancora con l'amministrazione Boieri io ai tempi ero l'assessore al turismo e penso di avere ottenuto un'ulteriore chicca per solto collina in quanto per il piccolo paese che siamo avere comunque un gemellaggio in atto tuttora penso che sia comunque un bellissimo traguardo siamo appena tornati diciamo a settembre abbiamo fatto visita ai nostri gemelli che per la quarta volta ci hanno fatto scorrazzare nelle loro viuzze in questo bellissimo villaggio dove la pietra ne fa da padrone anche là c'è il lago come da noi c'è l'estrazione del rame noi abbiamo l'estrazione della pietra c'è la scrittrice Beatrix Potter noi invece abbiamo altri personaggi che abbiamo già citato prima e diciamo che la cosa bellissima che quando arrivi in questo piccolo villaggio è il cippo sempre in pietra con la scritta Corningstone Twinning con sottocollina e comunque ti senti già a casa c'è un gruppo anche là di una quarantina di persone che organizzano il soggiorno degli italiani loro sono gemellati anche con la Francia idem per noi sotto collina c'è un gruppo di 20-25 persone ospitanti queste persone che porta avanti appunto il gemellaggio verranno l'anno prossimo in quanto sono curiosi di vedere il progetto di Cristo della passerella sul lago e dirò una una cosa neanche allora quando siamo stati noi siamo stati a Corningstone abbiamo chiesto come i gemelli non venissero in Italia per l'Expo non dico che abbiano sottovalutato la cosa però l'hanno lasciato un po' cadere mentre invece sull'invito quando verrete nel 2016 spiegando che c'era questa questo progetto di Cristo subito hanno già confermato le date avremo i gemelli di Coniston a giugno in Soltocollina per andare a vedere appunto il progetto di Cristo e sicuramente per passare qualche giorno in quanto ormai dopo 4 anni si diventa amici ma si diventa anche un po' una sorta di parentela lontana con questi scambi culturali che è ancora tutto da costruire questo progetto perché tanti mi chiedono sì ok voi andate là e poi cosa fate allora il poi cosa fate è che con il tempo qualcosina sta comunque crescendo anche là è cambiata l'amministrazione un'amministrazione giovane che ha tutta la voglia di portare avanti questa progettazione quindi per noi anche solo lo scambio culturale che dire solo è già tanto anche per passare qualche giorno in relax con loro è un qualcosa di non pagato infatti dico sempre anche ai membri della Proloco venite per chi ancora non ha visitato perché comunque è un qualcosa in più che la collina si può permettere in quanto il gemellaggio è di Solto Collina con il comune di Solto Collina e noi nel 2011 abbiamo avuto il partenariato di amicizia come Proloco la collina e possiamo portare avanti il progetto insieme ovviamente perché il gemellaggio è con il comune di Solto Collina ma la collina poi ha deciso di portare avanti questo progetto perché comunque dà comunque soddisfazioni anche per l'inglese per i giovani che vogliono spostarsi o imparare anche solamente la lingua o anche per altre cose insomma io spero ci spero vivamente di riuscire a portare Cristo qui non quello sull'ama quello in terra perché sarebbe sicuramente una bella chicca ancora il progetto c'è ci sarà sta passerella i giorni scorsi hanno detto che poi c'erano i matrimoni invece adesso hanno detto i matrimoni non si faranno ma lasciamo perdere queste cose sicuramente sarà un avvenimento che porterà per Monte Isola per Sulzano per tutto il giro del lago porterà sicuramente migliaia di persone perché poi la curiosità arriva sarà l'expo del 2016 per il lago di Seo per l'alto lago di Seo non so come poi ognuno lo chiama un po' come vuole ma sicuramente per il lago di Seo sarà qualcosa di più noi abbiamo avuto e quest'estate l'abbiamo riproposto in replica il direttore delle ferrovie retiche che giustamente diceva sì tantissimi che vengono sul trenino del Bernina meno che fanno il glacier express da Zermatt adesso non ricordo a Saint Moritz però tantissimi meridionali perché perché i meridionali sono attratti dal fatto di venire a vedere un qualcosa che dalle loro parti non c'è perciò pensando alla cosa ci sarà anche quello che dirà dalla Croazia piuttosto che dalla Slovenia vado a vedere oggi poi i laghi sono anche tutti gemellati perché mi risulta che anche i giorni scorsi ci sia stata una manifestazione ancora sul lago di Lugano che faceva capo un po' a tutti i laghi di conseguenza quello di Bletto quello di Endine o quello di Lovere riportandoli tutti insieme si fa circuito e la gente si muove con più gli estivoli lo costo che si muove noi siete portati a zero noi partecipiamo al Festival dei Laghi che promuove Iseo che viene fatto alla fine di maggio o all'inizio di giugno e tutti i nomi che tu hai citato adesso di tutti i laghi europei vengono messi lì in mostra per promuovere tutte le zone noi da tre anni ormai andiamo a questa manifestazione partecipiamo per tre giorni consecutivi e direi anche che un minimo di riscontro l'abbiamo comunque ottenuto anche grazie a questa manifestazione che ci ospita tutti gli anni e che dà comunque lustro alla nostra zona un'altra piccola chicca della collida e io adesso dico un nome e cognome e poi lo saluto Mario Verzeni che tanto mi fa soffrire perché continua a dirmi arriverò ma lui ria mai ma prima o poi rierà anche lui come siete messi con gli alpini benissimo Mario Verzeni allora innanzitutto è papà di due miei carissimi amici che ci si conosce da sempre lui è una persona squisitissima che qualsiasi cosa c'è da fare noi comunque ci rivolgiamo anche agli alpini e la porta in faccia non ce l'hanno mai chiusa anzi magari all'inizio no ma perché e poi invece vedi mercatini faccio l'esempio quest'anno ci siamo sentiti giusto una decina di giorni giorni fa e chiama Mario e mi dice noi ci saremo ai mercatini vero? e noi abbiamo detto noi sulla brochure vi avevamo già inserito e vi avevamo già anche ringraziato perché nella convinzione che loro erano già organizzati perché lo si sapeva noi idem e infatti non faremo sicuramente un flop con la loro presenza assolutamente con gli alpini come con le altre associazioni problemi zero ecco speriamo che domani quando servono i cotecchini gli strinù eccetera il resto è per mia senza quattro e mezzo dopo il mese di schilide più è per Dio glielo diremo ma si vede che ogni anno loro aumentano la dose ma ogni anno aumenta la gente per cui per cui va bene glielo diremo mi sono sentito un privilegiato l'anno scorso perché erano quasi alla fine ma qualcuno mi ha detto per il signor Ferrari c'è ancora la disponibilità ecco questo mi ha dato un po' fastidio perché non vado in giro certamente a cercare premende però un'altra associazione che mi sento associazione gruppo diciamo sono l'oratorio perché sarà un altro punto ristoro per il mercatino con le nostre signore della cucina e tutti i volontari della sala del bar che già alle 7 di mattina saranno già pronte con cibi, bevandi delle cornie per la giornata e mi sento già di ringraziarli in anticipo perché in tutti questi anni ci hanno seguito e in tutte le nostre manifestazioni ci sono e sono un gruppo non indifferente e parlando di gastronomia per un secondo come la mettiamo questi ravioli sono migliori quelli di Fonteno sono migliori quelli di Solto sono migliori quelli di Riva ma tu non sapete corda una volta per te è vero noi rappresentiamo la collina per cui per noi sono buoni tutti e tre dovremmo magari metterci di una volta e assaggiarli tutti insieme e poi vediamo sicuramente la media del 10 la superano tutti e tre non possiamo fare profumi di collina prima di dimenticarci quest'anno è stata riproposta stasera stata una pausa credo sabbatica una pausa sabbatica per vie diciamo economiche diciamo così allora la manifestazione è una bellissima manifestazione che promuove la collina a 360 gradi quindi promuove Solto Riva e Fonteno tutto lo stesso giorno e non è una cosa indifferente c'è tutta una macchina che lavora dietro tutti i volontari dagli alpini ai volontari magari momentanei della giornata piuttosto che la protezione civile gli oratori tutti i gruppi che si mettono tutti a lavorare sicuramente c'è anche un costo economico per cui per due anni abbiamo dovuto fare un attimino i conti sui tagli sulle tasse uno sull'altro quest'anno ci siamo detti anzi io all'inizio dell'anno ho detto non mi interessa come andranno i bilanci la vice è qua io quest'anno ripropongo la camminata e lei mi ha detto vabbè se tu sei sicuro sono andato a discorso un tir e niente siamo andati in consiglio gli abbiamo detto riproponiamo la camminata cosa ne dite chi più sì chi più no sai conti qui tira e molla gli ho detto vabbè se dobbiamo andare a casa andiamo a casa perlomeno abbiamo fatto una bella figura ma la camminata deve tornare la camminata è tornata è stato un grandissimo successo verrà sicuramente riproposta adesso dovremo ancora decidere la data perché in base comunioni cresime tutte le varie festività che ci sono ma sicuramente la camminata profumi di collina tornerà ribadisco perché in una giornata si ha la promozione di tutta la nostra zona con dei vari punti sosta dove si assaggiano dei buoni piatti dei buoni salumi piuttosto che del buon vino quindi poi tanta gente tutta insieme che lavora sono soddisfazioni poi noi abbiamo concluso a luglio per dire il nostro grazie perché sicuramente non possiamo elargire neanche un euro e abbiamo detto vabbè ok se è avanzato anche qualcosina facciamo una cena tutti insieme saremmo stati un centinaio sempre a Solto Collina in oratorio perché abbiamo detto dove andiamo Solto Riva Fonteno le signore dell'oratorio di Solto e di Fonteno hanno detto vabbè noi prepareremo una cosa noi prepariamo un'altra però tutti a Solto Collina per dire grazie a tutti i volontari che veramente ci danno una mano e a noi questo riempie di carica per andare avanti e poi va detto che molti ci chiedevano anche gli anni in cui non l'abbiamo fatta se l'avremmo riproposta anche al Festival dei Laghi moltissima gente la Festival dei Laghi sì era stata veramente Katia questa la chiedo a lei anche perché è un suo collega il Cardinal Borromeo benedicente su quella specie di carretta che poi un giorno lo si vede in giro invece vestito da protezione civile che in arte fa anche non di parte ma in arte fa anche il presidente della comunità montana dei Laghi qualche aiutino ve lo dà? no bisogna dire che stavo parlando di Alessandro Bigoni per chi non ha capito bisogna dire che quando chiediamo da aiuti di qualsiasi tipo anche a spiegazioni a livello amministrativo di come dobbiamo gestire certe cose certi moduli da compilare che devo dire che Alessandro ci ha sempre dato una mano ci ha sempre venuto incontro fortunatamente piccolo ma tosto Alessandro c'è però ecco sì ha sempre aiutato allora sul manifesto della collina dove avanti si mette Alessandro c'è allora non ci sarà Alessandro ai mercatini nel senso ma un timbro con qualcuno che c'è ai mercatini la Proloco lo consegnerà a tutti i visitatori lo lasciamo come suspense diciamo così noi consegneremo questa cosa con qualcuno che c'è abbiamo ancora 5 o 6 minuti e non voglio lasciarmi sfuggire l'occasione l'ho detto prima Valle del Freddo la Valle del Freddo non è allocata in quel di Soltocollina diciamo come territorio centrale è allocata dalla parte di quella famosa o disgraziata semirotonda tra Sovere e Endine che mai è stata illuminata e dicevano che le statali dovevano essere illuminate ma le i fasopiugni righe bianche in mesh poi i fasopiugni all'asfalt tanto te che tino consoli le finite soleco al dis guardate che ci sono le strade un po' disagiate un po' tanto anche le righe bianche hanno la loro importanza Valle del Freddo perché è andato un po' nel dimenticatoio secondo te? ma allora io non so se sia così andato nel dimenticatoio in quanto non vedo più quella allora secondo me no i ragazzi che ci sono adesso a gestire la Valle del Freddo sono un gruppo quelli del Buenofonteno Buenofonteno di Sebinica sono un gruppo fantastico da Max Pozzo a tutti gli altri i suoi collaboratori sicuramente è un qualcosa da far ripartire anche se diciamo io non direi nel dimenticatoio ma bensì una per utilizzare il termine che abbiamo utilizzato in questa serata una chicca che è da promuovere costantemente loro lo stanno facendo lo stanno facendo bene in quanto adesso gestiscono anche la buca del corno e altre iniziative sicuramente non porteranno un turismo di massa ma deve essere un turismo passatemi il termine d'elite e comunque con questo gruppo diciamo i numeri sono stati abbastanza alti perché parlando anche con Maurizio che è uno speleologo che abita a Soltocolina e fa parte appunto di questo gruppo mi diceva che l'estate è andato molto bene tante visite la Valle del Freddo è comunque per chi non l'avesse mai visitata una valle non dove fa freddo ma bensì ci si trovano queste buche questo microclima particolare questa fauna questa flora come se fossimo in alta montagna e venite a trovarci contattate Sebinica che è questa associazione per poter appunto visitare questa riserva molto particolare che è giusto che sia conosciuta in quanto fa parte del territorio di Soltocolina anche se diciamo tra il territorio di Endine e il territorio di Sovra però la riserva della Valle del Freddo è sul comune di Soltocolina Briciole di Ricordi questo è un libro di Rota Claudio un grande amico un libro che spazia dall'Adamello alla Presolana dall'Himalaya ai giorni nostri da Monsignor Capovilla a tante altre cose non dimenticandosi di San Giovanni XXIII questo io ve lo do diciamo proprio a nome di Rota Claudio so che sicuramente finisce in biblioteca e che poi è a disposizione di chiunque lo voglia guardare certo non è un libro in commercio è un libro diciamo un po' particolare che so però che è molto molto apprezzato da tantissime persone siamo alle ultime battute allora ricordiamoci domani mattina alle 10 l'inaugurazione la partenza dei mercatini ricordiamoci tutto quello che è il corollario della collina estate inverno autunno primavera non come mi avevano fatto insegnare quando ero nelle elementari che mi avevano detto le stagioni ci sono 4 primavera seconda vera terza vera quarta vera faceva parte di un mini teatrino fatto ai miei tempi piccole cose che non sono nel dimenticatoio l'anno prossimo Coniston viene a trovarvi per cui qualcuno potrebbe incontrare qualche inglese in più se frequenta la cosa non dimentichiamoci che Soltocollina è facilmente raggiungibile da 3 o 4 parti la parte più consona per chi scende da Clusone ovviamente è attraversare Sovere e quindi ci si è arrivati se proprio uno la vuol prendere su larga va a Lovere si fa il giro da Castro e viene su da Riva di Solto magari lo dice lo faccio perché lo faccio paesagisticamente io non so non so altro che dire grazie per la vostra presenza grazie a voi grazie per la vostra diciamo presenza anche volontaristica in seno al vostro paese perché so che state dando tanto e l'ho già detto tante volte io ringrazio tutti ma veramente tutti quelli che nel volontariato ci credono perché uno sia la Croce Rossa al Lavish o al Pinco Pallino o a Mel Mestabè io faccio il volontario qui a Tenna 2 è l'unica cosa che faccio perché mi sento di fare questa e non ho tempo di fare altro chi può stare in biblioteca in comune o nella banda cittadina ben venga grazie ancora e ad mai ora grazie a tutti